Le ambizioni erano sicuramente diverse, sicuramente abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno da tutti i punti di vista, abbiamo avuto anche due percorsi differenti perché in campionato abbiamo avuto un percorso di un certo tipo, negativo sicuramente, invece in Coppa Campioni si è riuscita a dare una continuità di risultati ma anche di gioco. E come ho detto anche in altre interviste credo che sia proprio legato a un fatto di concentrazione, a un fatto mentale, in questo momento quest'anno non siamo stati all'altezza da questo punto di vista e come la partita di domenica ha dimostrato dobbiamo crescere. Sicuramente ci sono stati anche momenti belli, per esempio le partite in Champions League comunque sono state delle belle serate per tutti, per i tifosi, sicuramente l'ultimo derby in campionato è stata una soddisfazione per tutti perché non vincevamo un derby da un paio d'anni, quindi per i tifosi è stato un bel regalo. E poi il tesoro che comunque ti porti via, ti porti dietro, il bagaglio aumenta perché anche nelle stagioni negative, le stagioni negative ti aiutano a crescere, ti aiutano a migliorare, ti aiutano a capire dove hai sbagliato e quindi la tua ricchezza, la ricchezza personale aumenta e ti può essere utile nell'anno successivo. Per tanti motivi, per l'orgoglio, perché è l'ultima, perché vogliamo dare un segnale, perché comunque ci crediamo, abbiamo poche possibilità di arrivare in Europa, però queste possibilità ce le dobbiamo giocare fino in fondo, quindi è necessaria una vittoria per la classifica ma anche per i tifosi, quindi per tanti aspetti non vogliamo deludere i nostri tifosi.